favole al telefono la strada di cioccolato tre fratellini di barletta una volta camminando per la campagna trovarono una strada liscia liscia e tutta marrone che sarà disse il primo legno non è disse il secondo non è carbone disse il terzo per saperne di più si inginocchiarono tutti e tre e diedero una leccatina era cioccolato era una strada di cioccolato cominciarono a mangiarne un pezzetto poi un altro pezzetto venne la sera e i tre fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato finché non ce ne fu più neanche un quadratino non c'era più nel cioccolato nella strada dove siamo domandò il primo non siamo a bari disse il secondo non siamo a molfetta disse il terzo non sapevano proprio come fare per fortuna ecco arrivare dai campi un contadino col suo carretto vi porto a casa io disse il contadino e li portò fino a barletta fin sulla porta di casa nello smontare dal carretto si accorsero che era fatto tutto di biscotto senza dire né uno né due cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le stanghe tre fratellini così fortunati a barletta non c'erano mai stati prima e chissà quando ci saranno un'altra volta